Buonasera a voi! Buonasera, un successo importante per l'Akregas, un campo difficile, un campo dove il Fomigliano ha cercato di riequilizzare la gara e non viene riuscito a merito anche per l'Akregas. Sì, un grande risultato che oggi prendiamo con grande nottizzazione perché abbiamo preparato questa partita con la massima attenzione perché tapevamo di giocare in un campo ostico come quello di Fomigliano. Una grande prova di carattere dei nostri ragazzi che veramente ci hanno emozionato per la volontà e la capacità come hanno ottenuto questa vittoria. Io sono felice perché se il buongiorno si viene dal mattino dico che faremo un grande campionato con questa squadra che già sta ingranando al massimo con il nostro grande allenatore che è il mister Rigoli, quindi siamo molto contenti e speriamo di proseguire con questo cammino con ancora grandi soddisfazioni. Presidente, 50 di posti a seguito a Fomigliano, tantissimi incollati sia sul sito sia davanti alla radio per seguire appunto questa partita. Una partita che si è conclusa positivamente è una partita che adesso apre le porte verso una stagione, come diceva lei, esaltante. Guarda, io sono felice quando sento queste cose perché vuol dire che si è creato un grande entusiasmo attorno alla squadra, attorno alla società e quindi la presenza a Fomigliano di tanti tifosi ma soprattutto di tantissimi tifosi che hanno seguito la partita attraverso il sito ufficiale dell'Agregas. Questa è una cosa che senz'altro mi fa piacere e spero io di vederli la domenica prossima in casa con la Pazzipagliese a sforzare questo grande gruppo che merita veramente il calore e l'amore di questa tifoseria. Presidente, ovviamente il viaggio a ritorno sarà molto piacevole a questo punto. Il ritorno sarà sicuramente piacevole. Io domani, dopodomani rientro nella squadra mi congratulerò con i ragazzi. Io purtroppo non sono stato presente perché erano degli impegni di lavoro. L'ho seguito però passo passo. Io voglio ringraziare personalmente parte lì questi ragazzi che dopo due giorni di viaggio e di fatica per gli allenamenti hanno dimostrato sul campo di essere dei grandi giocatori, di essere validi e che sono già nella prima partita attaccati ai colori della squadra. Quindi un grande grazie a tutto il gruppo che sicuramente sono convinto che ci darà delle grandi soddisfazioni. Grazie Presidente e buon rischio da Grigio. Grazie a voi.